buongiorno 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 buongior io la Befana è anche passata, ho la calza, corre, corre, vieni qua, vieni qua, che hai fatto? è pieno di figa, sta pieno, sta pieno, si si è pieno di figa, no vabbè, sta pieno, ma guarda che lavoro, anche la Befana, la figa non fa mai festa o no? ma no, che fa festa, mica quando è figlia non si mangia, si mangia sempre, si mangia sempre? sta pieno, 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 e poi anche belli, ma come ci so, fammi capire, come so? sono, io li vedo tutti neri, neri, col pelo? ah beh, è un bel riccio, c'hanno, guarda lì, mamma mia, poi ho fatto la permanente, uuuuuh, ah no, che ignopoli, mannaggia, è pieno, 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 io non voglio vedere più niente, può essere utilizzato per tutto, perché sta pieno dei ravioli, ragà, fatti in casa, nonna Mari, guarda, oh, sei contenta? eh, guardate che belli, guardate, ragà, di che vogliamo parlare? di che vogliamo parlare? mmmm, ricordo e spinaci, casareccio, ma che bello, che bella epifania, con nonna Maria, allora è appena uscito, pranzetto con carletto su youtube, eh? su youtube, ma alle 18 ci sarà un super video, abbiamo finito ora di girare le nostre riprese, vero? eh beh, quindi il mio compleanno, eh, sei contento? si, si, guarda di qui, guarda di qui, sei contento o no? si, si, hai un bacetto, oh, guarda quanto sei bellino, sembri un piccolo di pancurio però anche trachodzi, non, eh, no! no, sei un piccolo di pancurio con quelle petanelle che sta strisciando la terra clicca, sciccola bralone e fish questa torta al testo questa ricetta la vuoi noi la famo o no? proviamoci oggi pomeriggio perché stamattina ha fatto i ravioli io sto con voi ragazzi ci provo ma non è facile non è facile mettecene più 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 mettecene più mette la porca ma mettelo disinfetta mettelo sul culo i ravioli tanti dicono che il parmigiano sul sugalagione non ci va qualcuno attenzione sta nevicando incredibile temperature ok si riparte contro ogni dpcm sta nevicando riaprono tutte le piste curmaier, cortina, rampezzo, canazzei, arabba, corvara chi più ne ha più ne metta se va di valgardena comunque ha nevicato ha nevicato guardate che spettacolo guardate il dentro eh nonna marì mariadona il 10 della cucina ma ma mi sarebbe pulito davvero o lascelo farlo ma non è le faccia di spiegare eccola torta al vetro ecco mi gli trema il braccio ma è l'orgoglia intanto sta riprendendo la ricetta alle 18 la faremo e poi la metteremo su youtube che è o no? è un figlio di una mignotta malve eccolo rock corri corri sembra un capretto capro meci meci adatte per la neve oh è una bellissima giornata è una bellissima giornata è una bellissima giornata tutti commossi eh? pillero eh? guarda eh? sono morta dentro ma sono morta dentro ma è una bellissima giornata ma è una bellissima giornata eccola eh? sei contento? fermate tu che condense mamica guarda che cappella allora non stai ferma chi ti ha chiamato? che cazzo ci viene a fatto? che cazzo ci viene a fatto? che cazzo ci hai fatto? che cazzo ci hai buttato intorno a me quando? mica mi c'entrava mi c'entrava mi c'entrava mi c'entrava sopra me è proprio arrivato ma chi? tu? ma dove sono buttato? ma cammino dalle calze dai dove sono buttato? dove? di chi? sopra da me un letto mio. Ma quando? Oh, mi ripeto il culo. Ma il sacco è il mio coglione. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Fermate Federico, il loro stampato di destra. Mettela, eh. Fermate il mio coglione. Mettela. Fermate il mio coglione. Questo bambinello ha mangiato questi giorni, guarda quante... Che barbozze c'ha? Eh, nonna Marino? Ce l'ha anche rosce. Come? Ce l'ha anche rosce. Ha bevuto anche il vino? Eh. Siccome domani è il mio compleanno, posso dormire con te stanotte? Ma per il mio coglione. Dai, no. Oh, ma mi sto regalo. Dai, no. Ho ricevuto... che di là c'è casino? Eh? Ho ricevuto una chiamata, il Papa se li mette. Eh, oh, io... Vedrai tu. Non ci credo perché l'ho visto oggi, ha fatto tante cose belle. Se li mette il Papa. Non credo. Se li mette, dammi retta. Non credo. C'è più poco, dammi retta. Vai, vai. Se li mette vuoi Roma a piedi, va bene? Dai, la saia! Guarda che c'è lei, eh. Ti guarda. Guarda che più il bastone, dopo ti scorre. Sì, sai che c'è? Alza il colletto. Ma fatti i cazze tu, eh. La fine cosa, perché innalzi il collo? Ma perché tu che cazzo vuoi? Ma io porterò come parte a me. Ma dovrebbe stare su. Va. Stavore, non fai le sforbiciate le nemarra. Sta tranquillo. Beh, basta. Sforbiciate le sforbiciate. Beh, basta che te ne vè. Mollo, mollo. Ah! 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 Basta me! Che sto bene quando stai lontano. Ma di le cavolari. Menni che il padre... No! No, il padre no. Poccodrilli. Tra poco sarà il mio compleanno. 33 anni. Speriamo pieni di figa. No, scherzo. Ma... No, nemmeno scherzo pure tanto. Però, mi raccomando, mani... Instagram è così, boom. Mi scoppia il telefono. Anche al lavoro. A questo si deve sentire proprio come una botta grossa. Papam! Non dormiamo, mi raccomando, domani, eh. Ci vediamo domani. 7 gennaio. 33 anni. E vai. Comunque, vi ringrazio sempre. Perché siete una squadra fenomenale. Ve lo dice il vostro capitano. Che sennò non era un capitano se non aveva una squadra come voi. Ciao! Quando premete il disattivato, sono disattivati gli altri. Eh, beh. Adesso facciamo una prova. Ma, ne so. Guardate... Eh? Preparate. Ma, ho fatto... Siamo di capire chi potrebbe essere. Eh? La faccia a fuoco e io se... Niente. E la faccia severa... Eh? N'è successo niente. Que? Niente. Manco tu. Che ore sono? Eh? Che ore sono? Che ore sono? Guarda un po'. Eh? Eh? Eh beh. Vabbè. Ti dice niente questo orario? Eh? Mezzanotte e cinque giorno è oggi. Eh? No. Ah! Auguri! Ah! Grazie eh! Grazie eh! A mezzanotte e cinque mi hai dato giù! Per gli auguri! Eh beh! Manco gli auguri! Ma tutta mattina! Ma come le mattina me li puoi fare? Eh? Fermati! Grazie degli auguri! Mannaggia! Oh! E' stato fermo! Oh! Lavi un bacio. Eh? Vabbè! Ma pure... Eh? Non ti sei... Un po' di pipipipipipi! Fermati! Tu non ti sei accordato. Persona c'è. Che nonno c'è. Stai guardando un'altra volta Medeo! Eh? Oh no, a 33 anni secondo te come sarò? Tu sei uno stronzo nucleare come quando ce ne avete 32. A posto, grazie, ti voglio bene anch'io. Sì, auguri. Grazie. E per la moglie. Perché? E perché sì, perché almeno te levi di coglione. No! Eh, no? Non mi sembrava giusto. Perché io tocca i capelli? Ma non si possono toccarsi i capelli? Guarda che bella i capelli. Mi fa male il culo che ha scoreggiato.